Siamo tra le prime regioni d'Italia ad avere scuole sicure, ha detto il Presidente Iorio, lavoreremo e impegneremo fondi fino a quando all'ingresso del Molise non potremo porre una tabella con su scritto questa regione a tutte le scuole sicure. L'istituto è dotato di otto aule e di una sala multimediale. L'ingresso per il momento è in attesa del completamento del secondo lotto e consentito dalle scale laterali. Speriamo di avere il collaudo della scuola, dice il Sindaco rispondendo ai consiglieri di minoranza. I tecnici vogliono aspettare il completamento degli altri lotti, ma così facendo, continua il Sindaco, dovremo aspettare anni lasciando fuori i bambini in case provvisorie che certamente non sono sicure come una scuola rivista a norma.